riprendo io ik1 vhx per la ik1 bs bsx via r3 beigua vhf vhx da santuario di europa sto andando col voxon circa un quante e mezzo sto passando sul monte vhf 430 037.5 non quell'altro l'r3 675 e arrivi molto bene 5 segnale una radio del ponte qua è ottimo io sto andando come ti ho detto con quella potenza circa un quante e mezzo il voxon l'antenna è una collineare da macchina modificata per poter ricevere la base sul connettore adattatore sma pl femmina spero di essere transitato sono qui dalla finestra purtroppo ne corri che non riesco a entrare ik1 vhx cambio con ik1 vhx perfetto stefano passato benissimo e qui davanti a me c'è il parco sotto il santuario una bella vista il tempo ma tende al bruttino è la biciclettona c'è uno che sta sta giusta sta montando una sella con un con un camion con un cestello poi ti mando il video e niente tutto tutto bello bellissimo qua un posto fantastico pieno di gente c'erano i ristoranti pieni e abbiamo mangiato un panino ma tra un po scendiamo giù perché fa veramente freddo tutto l'evento alle stazioni nasconto qui siamo linkati con altri ponti e anche su ecolink purtroppo è stata una delusione nel senso una cosa buona quella di sentirci così via radio speravo di farla prova in ecolink ma non riesco a entrare cosa che facevo prima quando ero fuori ma qui da me si vede che c'è qualche interferenza o qualcosa che non